Come già annunciato in varie precedenti trasmissioni, Giovanni Doni in coppia col Fido Pierotti l'anno prossimo sarà un assiduo frequentatore delle gare della quinta zona. Doni l'abbiamo visto spesso nelle trasmissioni della Pro Bike alla guida della sua Ford Sierra a Cosworth, spesso duellando con i migliori piloti italiani in assoluto. Poi quest'anno a causa di una stagione non proprio felicissima e probabilmente anche la perdita della priorità è tornato a frequentare le strade della quinta zona. Doni, con quali programmi? I programmi sono per fare una bella stagione qui in zona dove ci sono maggiori possibilità chiaramente che è il campionato italiano perché gli avversari sono di un altro livello. Con questo non voglio dire che sia facile fare dei risultati in zona, però diciamo che ci sono maggiori possibilità. Io avevo lasciato la zona per cercare nuovi stimoli, nuove motivazioni in gare che non conoscevo. Ora a distanza di qualche anno posso ritrovare quegli stimoli e quelle motivazioni anche nelle gare di zona e spero di divertirmi appunto. Il discorso poi dei risultati è da vedere. Io cercherò chiaramente di vincere quello che potrò vincere, cioè il gruppo N dove gareggerò. Farò set o otto gare. Durante la stagione vedremo cosa viene fuori e se ci sarà possibilità poi di concorrere al titolo finale. L'auto naturalmente è sempre la Ford Sierra Cosworth due volumi sulla quale ti abbiamo visto nelle ultime due stagioni, giusto? A giornata? Certo, la macchina è la solita, sarà rivista come manutenzione e anche come migliorie per quello che sarà possibile. Sempre per rendere al massimo della competitività. Secondo te a questo proposito in gruppo N è sempre competitivo il due ruote motrici sul nuovo quattro ruote motrici? Per quanto riguarda le gare di zona, senz'altro, quanto non ci sono gare su terra, sono tutte gare su asfalto e poi c'è il vantaggio che noi con la macchina ormai la conosciamo, l'abbiamo resa affidabile, questo è dimostrato anche l'anno scorso, che ci siamo ritrati solo una volta per incidente, fra l'altro nemmeno per guasto, quindi andare a cercare un quattro ruote motrici che deve correre su asfalto e magari ci può creare dei problemi in quanto macchina nuova con dei meccanismi come appunto il differenziale, e quelle cose lì che sono nuovi e possono non essere affidabili, penso che sia una cosa da evitare. Un'ultima cosa, stasera siamo stati ospiti della scena di questa scuderia, Giovanni Doni è presidente, factotum e socio fondatore della Rally Company che naturalmente sarà la tua scuderia anche per questo anno. Sì sì, senz'altro, finché io corro correrò per la Rally Company che è un po' una mia creazione, sono contento della scena che abbiamo fatto stasera, ho visto che sono aumentati i soci, sono aumentati i piloti, spero che piano piano cominciano a venire anche dei risultati di prestigio diciamo. Prima gara? Prima gara per quest'anno per quanto mi riguarda sarà il Rally di Pistoia. Bene, allora un appuntamento al Rally di Pistoia e un saluto e un in bocca al lupo da nome della ProBike. Grazie, ciao.